Amici sportivi, tifosi dell'Akragas, benvenuti alla rubrica Un Gaffè Con. Per la terza puntata siamo ospiti di questa nuova e meravigliosa attività commerciale alla Via Tenea ad Agrigento, la prosciutteria. Ospite della terza puntata è il fantasista dell'Akragas, Paolo Grillo. Alcuni secondi e torniamo in onda. Per la nuova puntata saremo ospiti della prosciutteria in Via Tenea ad Agrigento. Non mancate, vi aspettiamo. Eccoci di nuovo in onda, come detto in apertura. Siamo in compagnia del fantasista dell'Akragas, Paolo Grillo. Ciao Paolo e benvenuto alla prosciutteria. Siamo in Via Tenea, del cuore di Agrigento. Conoscete questo posto? Assolutamente, sì. Sono stato qua un paio di molte, un locale bellissimo. E' vero, si trova nel cuore della città, quindi non ci può essere di meglio. Il tuo rapporto con il cibo? Com'è? Tipo, mangio di tutto. Certo, noi dobbiamo tenersi un po' in linea, però mangio un po' di tutto. Allora, parliamo subito di Agrigas. Siamo regi dalla sconfitta di misura 3 a 2 sul campo dell'ambizioso Real Casalnuovo. Sponfitta, come detto, di misura. Il gol del 2 a 1 lo hai siglato. Tu un bel gol che non è servito però per portare a casa un risultato positivo. Paolo? Sì, sì. Purtroppo è stata una giornata negativa. Siamo stati bravi poi sul 2 a 0 a di aprile, però purtroppo l'espulsione, secondo me, è anche un po' dubbia. Ci ha tagliato un po' le gambe. Però è solo un incidente di percorso e domenica dobbiamo ottenere i tre punti. Rimane comunque positivo il bilancio dell'Akragas dopo nove giornate. Ho fatto vittori, quattro sconcritte. L'Akragas è sempre lì nella parte sinistra della classifica. È soddisfatto? Sì, personalmente sono soddisfatto. Poi io credo che questa squadra può migliorare, può migliorare tanto e secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni. Per te i tuoi gol? Sei arrivato da poco in casa Akragas e quindi è un risultato importante. Hai fatto tra l'altro il gol della vittoria contro il Castrovillari. Sì, sono contento a livello personale. Certo, non avendo fatto la preparazione magari ho bisogno ancora un po' più di tempo per entrare in condizione. Però adesso sono molto meglio. Prima di firmare con l'Akragas tante squadre erano su di te. Anche la Reggio Calabria, la nuova squadra che ha preso il posto della Regina. Sì, sì. Poi hai scelto l'Akragas. Devo essere onesto, sono stato molto vicino a vestire quella maglia. Però devo essere onesto, sono felice di essere... Non ti sei pentito, di aver scelto il gigante. Assolutamente no. Che squadra è l'Akragas, Paolo? Una squadra in primis viva. Anche veniamo da due sconfitte, però è una squadra viva, una squadra giovane fatta di molti giovani di qualità. Molti giovani di qualità e degli over importanti. Penso a Jamas, Sanseverino, Litteri. Sono giocatori forti. Che può arrivare? Dove secondo te? Ancora presto per dirlo, però... In primis pensiamo alla salvenza, però... L'obiettivo principale della sua età. Esatto, però... Non voglio dire... Voglio essere scaramantico, dai... Ma può fare bene, dai. Può fare assolutamente bene. Senti, Paolo, allora tu arrivi... Hai giocato anche in Serie C, quindi sei giocatore con tantissima esperienza. Indossare la maglia dell'Akragas per te cosa vuol dire, cosa rappresenta in questo periodo della tua carriera? Ma per me è un onore. Poi, sempre una squadra siciliana. Io sono siciliano a tutti gli effetti, quindi... Sono contento. Poi è una piazza che... Senza nulla togliere le squadre di C, non abbiamo nulla da invidiare. Devo essere onesto, cioè io... Si avevo in mente in estate, cioè di aspettare una C, però... Fino a quando vieni per l'Akragas, va bene. Vabbè, assolutamente la tua presenza dall'Akragas. Tu quando cominci a giocare a calcio? Ma sì, sin da piccolo. Ho iniziato nella squadra del mio paese, poi... Lo ricordiamo? San Cipirrello, no? Sì, San Cipirrello, il paese. La squadra si chiamava Gietas. Gietas. Ok, San Giuseppe Ghiardo. Sì, sì, sì. Poi a metà di dieci anni sono andato nel Palermo a fare tutta la trafila, dei pulcini fino alla prima squadra. E poi ho girato un po' per i primi due anni in prestito, poi c'è stato il fallimento del Palermo. Sì, ho girovagato. Per te il calcio cos'è, Paolo? Tutto, tutto. Insieme alla famiglia è la cosa che mi dà più felicità. Una carriera importante, la tua? Sì, diciamo che ho fatto Piazza Importante. Le ricordiamo? Le ricordiamo per... Giurano lo sci-fuoco. Il primo anno al Siena, poi sono andato a Siracusa, ho fatto Provercelli. Dopo la Provercelli ho fatto la Sicola Leone, c'è in C. Poi sono andato, mi ha preso il Cittadella, Catanzaro, Vibonesa e Messina. Che carriera, mamma mia. Il gol più bello che hai segnato finora? Il primo, dico. Dico il primo col Siena. Eh, ce lo descrivi, te lo ricordi. Ma c'è stata un'azione, pensa che è stata dopo 40 secondi dall'inizio. È un record. Abbiamo fatto un'azione a Marotta con Mendicino, poi mi ha giocato la palla al limite. Mi sono girato e... E' un gol. La tua carriera è quindi una carriera importante, abbiamo detto. Chi è stato l'allenatore più importante? Quello che ha creduto in te per lanciarti nel mondo del calcio professionistico? Ma da giovane, cioè io parlo sempre, c'è di scurto negli allievi nazionali che allena il Torino, anche Bosi. Mi hanno dato tanto perché comunque a quell'età devi avere a livello mentale qualcosa che poi ti può fare arrivare con i grandi. Poi diciamo che con i grandi ho avuto un ottimo rapporto con Vito Grieco, sia alla Provecerica che alla Sicula Leone. Con lui ho un ottimo rapporto. Altri giocatori, compagni di squadra, che sono stati importanti per la tua crescita calcistica? Ti ricordi? Un po' tutti, un po' tutti. Forse quelli che con più qualità, che ho giocato con più qualità, metto Iori a Cittadella, anche a Catanzaro e Vacuo. Comunque giocatori incredibili, persone di un'umiltà incredibile. E poi ricordo anche con piacere Nele Catania che ha giocato anche qui a Ghiadagrigento, all'Agragas, che hanno dato un buonissimo ricorso. E con Giamma, Morimoto, i rapporti sono fantastici. Io sono qua da poco, da tre settimane, però già ho legato con tutti. Poi Cristian è uno che fa il gruppo di far ridere con Giulio Sansemerino, con anche Morimoto, comunque un gran personaggio. Insomma, è un bel gruppo quando ha degli altri ragazzi. Senti, invece la città di Agrigento, come si sta ambientando in questa tua città? Molto, molto bene. Poi ci parliamo di una città conosciuta in tutta Italia, quindi non si può stare bene. Abbiamo il mare bello, poi già quando senti quel sapore è tutto più bello. Parliamo un po' della tua vita personale, anche privata. Quando non giochi a calcio, cosa fai? I tuoi hobby, i tuoi passatempi quali sono? Per conoscerti meglio. Ma a mostrare c'è in famiglia io. Sì, qua non sono uno che smette a girare sempre. In estate mi piace viaggiare molto, abbastanza. Un po' con la ragazza, con gli amici. Non sono uno proprio... Mi piace stare un po' sul mio. Quindi sei fidanzato? Sì, sì. Assolutamente. Rafforzato con la tua ragazza, ma con fiepele. Ottimo. E tifosi nel calcio, tifosi nel calcio. Tifosi nel calcio grazie a me, non è che sia così amante nel calcio. Però sì, diciamo che ora inizia a capirlo di più. La tua famiglia invece, quanto è stata importante nella tua carriera? Molto, molto. Cioè io specialmente ringrazio sempre mio padre, perché comunque dal mio paese da piccolo mi portava a Palermo. Quindi... Tanti sacrifici? Assolutamente sì, sacrifici, capito? Lasciare il lavoro per portarmi, quindi... E c'è una persona che devo ringraziare sempre a lui. Gli amici invece, che ruolo hanno nella tua vita? Importante, molto, molto. Diciamo che... Assolutamente sì, sono i primi tifosi, li chiamo i primi tifosi, quindi... Non mi posso lamentare in questo. I tre numeri di telefono che componi più spesso durante la giornata quali sono? Ovviamente la tua ragazza. Sì, la ragazza, papà e mio fratello. Poi, fissi. Che hanno un ruolo, come detto, fondamentale nella sua vita. Molto, molto. Ad Agrigento invece, con chi è stretta amicizia, con la tifoseria, che rapporti hai? No, no, molto. Qua sono la dirigenza. C'è un rapporto molto aperto, molto bello. Che bene, con il ministero, con i direttori. Gli giuro, non mi posso lamentare di nulla. Poi, forse, dei ragazzi, quello che ho più rapporto con i congiuti. Sansevriano. Malermitao, come te, ha giocato pure nel Palermo, quindi l'amicizia è abbastanza forte. Cosa ne pensi della dirigenza bianco-azzurra? Tu hai girato tanto, come hai detto, nella tua carriera. No, è... Per me è ottima. Ci sono anche ampie immagini di miglioramento, perché questa piazza per me ha un potenziale per guardare altre categorie. Comunque mi hanno fatto tutti un'ottima impressione. Quindi, la reputi un punto di partenza, l'Akragas, oppure un punto di arrivo della tua carriera? Sei ancora giovanissimo. Assolutamente. Cioè, per me, l'ho detto, sono venuto qua perché credo in futuro di poter tornare in C, e spero con questa maglia, con la maglia dell'Akragas. Tra poco arriverà anche un aperitivo, così ci infischiamo un po' la bocca. Sempre farò parlare di Paolo Grillo, da un ragazzino. Giocavo a calcio, sempre. Sempre, dalla mattina alla sera? Sempre, dalla strada, da tempo, continuamente. Uscivo con mio fratello. Quindi, allora, non è stato il tuo migliore amico. Lui si svegliava presto la mattina, magari non mi volevo portare. Appena sentivo lui, tac, mi svegliavo e andavo. Eri un predestinato per giocare a calcio? Sì, sì, da sempre mi è piaciuto. Poi, l'ho detto, devo ringraziare la mia famiglia perché senza di loro sarebbe stato difficile. E invece, tra dieci, vent'anni, come ti immagini? Ancora nel mondo del calcio oppure... Nel mondo del calcio? Nel mondo del calcio sempre, però non so che settore. Non so che sono portato per fare l'allenatore. Però mi piace sempre lavorare con i bambini, molto. Scuola calcio, insegnare calcio... E che consiglio ti senti dare a chi sta guardando la trasmissione, magari giovanissimo e sta iniziando a giocare a calcio? Io dico sempre che da fuori sembra tutto facile. Ti dico, vabbè, dai, si gioca a calcio, si sa bene, invece no. Perché si fanno molti sacrifici, chi va lontano dalla famiglia, lontano da casa. Può arrivare a quell'età, 16-17 anni. Amici, comunque divertimento. E quindi non è facile andare lontano, capito? Perché magari ti mancano gli amici. Quindi devi avere quella forza che non ti fa mollare. Delusioni al mondo del calcio, le hai avute, ricevute? No, delusioni no. Forse qualche scelta non dovevo fare. Solo quello, però delusioni no. La vittoria più bella che ricordi è con quale maglia? La vittoria più bella è bella. Sena all'Iporto mi è piaciuta, è stato un bel bisentito. Eh sì, lì è abbastanza. Poi prima vengono, Palermo Catania. Hai segnato quella partita? No, Palermo Catania non l'hai segnato, però hai fatto una bella partita. Quindi abbiamo detto che tra vent'anni ti vedi nel mondo del calcio. E se non avessi fatto il calciatore? Adesso Paolo Grillo. Non lo so. Tanto arriva l'aperitivo, ringraziamo gli amici della prosciutteria che hanno questo delizioso cocktail. Quindi? No, non so che cosa avrei fatto. Forse l'ha seguito mio padre che lavora nel mondo dell'edilizia, però non so, non lo so perché. Sin da piccolo ho giocato, grazie. Non mi sono mai fatto questo problema. Dai, non mi sono piatto. C'è un brindisi. A cosa in particolare? Dai, vicino via. Domenica arriva il Canicattia, l'Essaneto del Grigiano, un derby molto molto sentito, Paolo. Canicattia affrontato tra l'altro in Coppeto. Guarda che delizio che arriva. Mamma mia, la prosciutteria. Grazie, grazie di cuore. Grazie. Ci tocca qualcosa da mangiare. No, dobbiamo assaggiare. Quindi parlavamo di Acregas e Canicattia, domenica l'Essaneto del Grigiano, ore 15. No, Dedi, come detto. Molto importante è fare la classifica di entrambe le formazioni. È una partita importantissima. Poi veniamo da due sconfitte in campionato, quindi dobbiamo fare risultato. Bisogna vincere, sia per la classifica, sia perché un derby, poi sai le vittorie che ti danno fiducia, poi ti fanno allenare meglio, arrivi alla partita successiva con un'altra mentalità. Bisogna vincere. Rispetto alla gara di Coppa sarà tutta un'altra partita. La partita, sì. Diciamo che la posta in palio è diversa, gli stimoli sono diversi, è una partita forse più agguerdita sarà. Caricattia che avversario è? No, è un avversario validissimo, ma l'abbiamo visto in Coppa. Comunque non ci sono partite facili, assolutamente. Poi loro comunque hanno anche una buona classifica, quindi vengono loro anche da una sconfitta, quindi sicuramente vorranno fare il risultato, però dobbiamo fare il risultato o no. Quanto sarà importante l'apporto del pubblico di casa, il tuo rapporto speciale con la tifoseria, la Cragantina che spinge il Nì a dare un forte ai giocatori? Qua non ci possiamo lamentare del tifo, l'ho detto subito, non è un tifo da D, è da categorie superiori. e tu di campi infuocati, ne hai girati, di coseria importanti, ne hai viti. L'Akragas ha un sapore particolare, speciale. Buono, assolutamente. Quella curva a sud? E beh, devo fare il gol da sotto, forse. Domenica? Promessa davanti, davanti, davanti a tu. È una promessa. Assolutamente sì, dai. Ci avviamo alla conclusione di questa chiacchierata con Paolo Grillo. Vi ho detto della tua carriera, abbiamo parlato di Akragas, anche del tuo futuro. Ti vedi un po' nel mondo del calcio, con i giovanissimi, i ragazzi dell'ascune calcio. E poi? Non lo so, la famiglia ci pensa a mettere su famiglia. Un ragazzo, un po' più rianzata. Diciamo, stavo andando a mettere mani per il futuro, quindi... Sono contento. È la prima cosa, quella è la prima cosa che guardo, perché comunque è sempre uno sport, comunque lo prendiamo come un lavoro, ma poi le cose più care per me rimane la famiglia sempre. Va bene, va bene, grazie per questa bella chiacchierata. Paolo Grillo, ci vediamo domenica, è seneto, ore 15, il derby contro il Lackanica T. Un augurio, l'augurio, chiusura di trasmissione. L'augurio è vincere, fare più risultati per portare questa piazza in categorie diverse. Grazie, grazie a Mauro Grillo, grazie di cuore, grazie a voi per l'attenzione, ringrazio Francesco Montefusco, Giacomo Chiarelli per il supporto tecnico, ringrazio anche i colleghi di Polans, grazie alla prosciutteria, noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. arrivederci. Grazie a tutti.